Foodglory.com, trovate il link nella descrizione Fateci un salto e buona visione Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker Siamo tornati signori finalmente Con il grande ritorno del Rodrigo Giovanni in coppia con il nostro amico Carissimo, bellissimo, profumatissimo Sodin Così proprio Bella, iniziamo alla grande Iniziamo alla grande, oh ragazzi Scusate veramente Se non abbiamo portato altri episodi in questo periodo Ma ovviamente ognuno di noi ha Cose da fare E non siamo riusciti ad organizzarci Esatto, non siamo riusciti bene ad organizzarci Ma oggi siamo qua più incazzati che mai Sempre la nostra AS Roma Per culo a tutti, quindi regà mi raccomando Un like assolutamente, supportate questa serie E questo grande torr, questo grande tonno Stavo a dire, questo grande Ritorno, siamo in divisione 4 e abbiamo vinto 3 partite Due le abbiamo perse però Sodin Due le abbiamo perse però oggi siamo incazzati E' un po' che non giochiamo Quindi bisogna legnare duro Per forza E io so di noi ci chiediamo alla bellezza A meno di 15.000 like Per forza Grande ritorno ragazzi Cioè per forza Non ho chiesti eccessivi Perché sono poi Però almeno così Oh, siamo contro il Besiktas Che cazzo Com'è sta squadra? Non lo so, te lo giuro Non ero preparato a questa cosa Mi sta un attimo spaventando sta cosa Che il matchmaking di FIFA si sia sistemato in nostra senza Eh, non lo so Ma io ancora non ho capito chi cazzo so io Ah, il blu Tu sei il blu Piccole confusioni Oh, bellissimo Vai in mezzo, vai in mezzo Ma va bene, va bene ragazzi Già si inizia qua signori eh Ma questo si sta accentrando l'infamotto Oh mamma mia Allora, fermi un attimo Boni tutti, stiamo a garmi, giocheri svegliate Che stavano già Stavano più a qualcosa Dov'ha questa? Stavano da funghi, attenzione Vai, vai Shesny, esci che è tua Bravo Ah Shesny Eh, te pare Quando mai Aspetta che te la do Vai, vai, vai Corri, corri, corri Bella così Ho proprio visto Eh, ma c'ho pianic Non corre tanto Non fa niente Non fa niente Ti apro dall'altra parte Non c'è mai arrivata questa palla dall'altra parte Sì, dai, dai Ma carburare, guarda No, no, no Vai da solo No, no La dovevo toccare No, perché? Oh, non è fuori gioco Gioca, gioca Che era successo? Che cazzo era successo, ragazzi Che cazzo è successo lì Non lo so No, ma a me l'ha proprio smesso di prendere il pallone, ha detto Io volevo prenderla Poi ho detto No, aspetta Vado in fuori gioco Però non era fuori gioco, a quanto pare No Infatti È pure un bel gol, ragazzi Ma sì Ma, porca troia Inaspettato Ma che cazzo Vabbè, 1-0 Raga Vabbè, vai così Vai Bellissimo Vai Oh, non so se l'ha preso Non l'ha preso Non l'ha preso Sì, non l'ho preso No Sì Dai Ok Vai così Mamma mia Siamo stati un po' fortunati lì Eh, però comunque il pallone Che cazzo Ma diciamo che era voluto Qua siamo stati fortunati Poi il pallone E poi sarà Comunque se facciamo un Prendi il pallone challenge insieme Già siamo a due punti Eh, ma infatti ho visto che mi hai taggato nella challenge Esatto La devo fare Tranquillo che la continuo La faccio La faccio La double pallone challenge Ma dai, veramente Sai che ride, sul serio Madonna Ragazzi 25.000 Anche facciamo la double pallone challenge Che sto a dire Double pallone challenge Double pallone challenge Oh, primo tempo è andato così Non gli ha fatto fare l'azione Sì, proprio meno male Gli ha detto Poi avevo firmati Non rompiti i coglioni Guarda l'estatissima Perché abbiamo un tiro Se non importa Ma che fa a dire Ma che fa a dire Sto gioco si è drogato Ragazzi No, ragazzi Ma che fa a dire Cioè, abbiamo fatto due tiri Solo nell'azione del gol Il palo e il gol Cioè, già là erano due tiri Per il gioco Un tiro e zero di rimporta Non ci ha considerato di rimporta Vabbè Voi vede come cazzo L'hiamo segnato noi Cazzo la speranza Vabbè Vabbè Non ci voleva Non ci voleva Capirai De Rossi Che non corre neanche Con la voglia di correre Eh, va bene Dai, va bene Questo era un contropiedere Che era proprio Impossibile da non prendere Il gol Merda Eh, l'hanno riaperta L'hanno riaperta Eh sì Non dico immeritatamente Ma l'hanno riaperta Aia Ah, madonna Ma come fanno a passare così FIFA Che cazzo stai combinando Porco cane Porco Cioè Mi fai lasciare palloni Come se non ci fosse un domani No, veramente Ah, guarda Che cazzo sta succedendo Guarda No, regà Vabbè Se siamo ubriacati qua Ho capito a posto No, no, no Cioè Io l'ho detto Guarda Il primo tempo Da leoni Secondo tempo Da minchioni Dai No, no Non la volevo Va bene Va bene Va bene Va bene Come vuoi Come Te la sento Ecco Tutto da Io la cross Me la prendo da solo Non so per quale motivo Ma va bene così Meno male che comunque nel dubbio Uno lo preme quadrato Per tirare Sì, sì Meno male Meno male Grande zuccata Mamma mia Bella Benissimo Appoggiami Appoggiami sotto E vai Ok, vai Veloce No, merda È buona No, come ha fatto a prenderla Alexis Il miglior difensore del mondo Dobbiamo Oh, arbitro Arbitro Grande arbitro Il dodicesimo uomo Ha fermato pure un mio giocatore Non so se ci hai fatto caso Sì, sì L'ho visto Sono scoppiati Sono scoppiati Sono scoppiati Eh, pure De Rossi è scoppiato Oh, De Rossi Oh, madonna Come se ne era andato De Rossi Che è successo? Perché fallo Io non l'ho toccato Come ho fatto C'è una palla a noi Ma dai Ma non ci sono Un po' Proprio Oddio Toglio Ma mia Che fatica alla fine Che ansia Ma che è Ma siamo Un punto Un punto Mamma mia Le fanno più all'ansia Non queste cose Dai Giocheri Un punto E andiamo in divisione 3 Dai Un punto ragazzuoli E andiamo Nella nostra divisione Divisione 3 Ragazzuoli dobbiamo farcela Assolutamente Per forza E poi ci calcola Solo due tiri Uno in porta Con tre gol Io non te l'avevo detta Le statistiche Volevo vedere Quando le guardavi Cioè, vabbè Cose assurde Robbe strane Non abbiamo Giocao No, praticamente no Abbiamo vinto a tavolino Io dico PSG Non so perché Dentro di me Penso O so Teniamo Barcellona Dici? Capito? Uno dice C'è club No, nazionale No, nazionale Proprio Però Giocheri Ti ricordi L'abbiamo già battuti Due con l'Inghilterra Sì Sì Ragazzi Quali importate È un attimo Riscaldarci Quel secondino Se infatti Prendiamo il pallone E facciamo un golletto Subito Subito Il team squalo Figa pelosa Non teme nessuno Perfetto È bella Bella Sempre dei rossi Perfetto Daniele Non abbiamo fatto A giocheri Ma te che stavo A parlare Bellissima Questa ragazzi E non giochiamo Da un mese Ma ci riconosciamo Sempre Cioè Gimmi five Gimmi five Te lo sto dando Te lo sto dando Amico mio Cioè ragazzi Daniele Sbracca sempre Risultato Vado Va bene Vai con Pjanic Non sanno Questi non sanno difendere Ah aspetta Ci hanno fatto fallo Polizioni Ci hanno fatto fallo Una buona Vediamo se gli dà il rosso Perché era un fallo a caso Ah random Sì proprio a caso Che è succedo No Non lo so Ah sei te Non gli ha fatto niente Comunque Io metto Pjanic Vai vai Scodella la Pjanic Oppure non lo so Tira Vedi un po No tira tira Ha fatto bene Mamma mia Era una mennellata Non ci ha messo Oh che sta succedendo Che sta succedendo Di nuovo No aspetta aspetta La teniamo questa La teniamo Sì 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 Tutti schierati Guarda Stanno Io Non c'è dentro la palla Ok Era una pennellata Quella eh Eh l'ho vista L'ho vista Era preciso Aspetta che io Ok Pjanic O lì Inculiamo che passiamo Perché Non lo so Vedi tu No 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 Io ti tiro Coppia No Cazzo Cosa cazzo È successo L'ho appena toccato Quel pallone Io lì l'ho tirata Un po' più forte Perché ho detto La devo tira forte Perché c'ha l'omino Sul palo Ma porco Due L'incrocio Ho preso Quella scodellata A lui Che ho fatto io Perché Non lo so Perché Florenzi Ha sparato in culo Alla tribuna Bella Questa azione Guardami Oddio non so se ce la faccio Arco cane Mamma mia Buono 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 Ah perché gliel'ha sparata Così in bocca Ah merda Eh che cazzo Che culo che c'ha Sali Vai Bella 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 Calcola che non riesco a controllare Perotti Quindi stai da solo Praticamente in questo momento Ora ci sono Ora ci sono Come vuoi Ecco qua È fatto È fatto C'è sempre il cuore De Rossi di nuovo De Rossi di nuovo È morto infatti Che ama più Tre gol in due partite ragazzi Ma Vada qui Come si va a bere Gli avversari Il giocherino Proprio una pennellata Sulla testa di De Rossi Ormai Siamo ognuno Dell'ottica dell'altro Quindi sappiamo Io sa che io Quelle cose le faccio Te l'appoggio Va bene Bella Oh Mamma mia Oh che è cosa Entrava questa Ragazzi No no veramente Euro goal C'è se entrava quella La sentisse male Sul serio Ma stava a giocare bene Stiamo giocando oggettivamente bene Va bene Ok aspetta Guarda che riesco Ok te l'appoggio qui sotto Bellissima Guarda come vuoi Come te la senti Come te la senti Fallo Rigore Non è Va bene Ma porca tro... Ma porca tro... Che cazzo Mannaggia Ma veramente Perché gli devo dire Oh Che ci dobbiamo inventare Per buttarla in porta Dai Ok Ok Bello 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 Piani Oh piani Eroe contemporaneo Era fallo Parca miseria Oh no Piororo Ma come fallo Ma che c'hanno Gli occhi al contrario Gli hai scureggiato addosso Quindi hai fatto il fallo Ma veramente Oh E cazzo Sta guarda Stabilo Alla presa Madonna Santissima L'hai piazzato Come la zucchina Pensavo di prendere Il pone La squadra munita Abbiamo 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 I due centrali Ammoniti Però finché non ripartono Ma pure bene Sì sì Ma fatti Il nostro obiettivo Adesso Su quest'azione Voglio il gol Giocherino Voglio il gol Su quest'azione Ok Su quest'azione Sulla prossima Vai Facciamo il gol Ora Facciamola La prossima Non inizi a far merito Se no Favo più cazzo Lo dico io Fatti vedere Fatti vedere Bellissimo Oddio Oddio Ce ne hanno uccisi Non so quanti Però Ok Fai quello che ti senti Fai quello che ti sete Oddio Si sono buttati Tutte e due A Power Ranger Madonna Se stavano ammazzà Arbitro magari se ti levi dai maronzi Ok Vabbè Bellissima Pianish ragazzi Pianish non ce la fa Te la passo E non so se ti arriva Non so Ti arriva Cosa Vai giocata Può essere che mi dice Puro Fate due colla Ma sul serio Su sto gioco Non si sa mai E' finita No Ho fatto un passaggio spettaculare Però vabbè sti cazzi Abbiamo vinto E' mese pure Spetta la telecamera Eccola qua Oddio Comunque le gare Le risate Io giuro Madonna mia Io non posso giurare Pianish ragazzi Veramente Ridiamo il 90% del tempo Cioè non si può fare proprio Comunque siamo arrivati Ufficialmente in divisione 3 Eh sì Un punto al titolo Della divisione 4 Questo ovviamente Questo ce lo faremo Quei cazzi nostri A meno che Vabbè non lo so Vi facciamo vedere Tutte le partite Ma che ce ne frega Comunque Facciamo così Per oggi ragazzi Questo video E' giunto al termine Quindi ovviamente Ringrazio sempre Sodin Per la disponibilità Grazie a te Giocherino Come è sempre Piacere giocare con te Ragazzoni Siamo tornati più forti Che mai Proprio carichi Quindi mi raccomando Spolliciate Io vi metto Non scherzavo Ragazzi Se volete A due Al palo Challenge Sì sicuramente Spolliciate L'arrivo A 20 Lasciamo nel prossimo episodio Ci starebbe Ci starebbe Tanto C'è Ci organizziamo Facciamo una bella sfida Così Madonna Vi ringrazio ancora Tra il link Sempre in canale In descrizione Di Sodin A prossimamente Il vostro giovedino Ciao signori Bella